Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. La foca è un mammifero marino che fa parte della famiglia dei pinnipedi. Noto per la sua capacità di vivere sia in acqua che sulla terra ferma. Questi animali sono ben adattati alla vita nelle acque fredde, grazie al loro spesso strato di grasso che li isola dal freddo e alla loro capacità di nuotare agilmente in cerca di cibo. Le foche hanno dimensioni che variano da 150 a 200 cm di lunghezza e pesano tra i 105 e i 150 kg, con un'aspettativa di vita che può raggiungere i 25 anni. La loro pelle è generalmente liscia e può presentare una vasta gamma di colori e modelli, che variano notevolmente tra le diverse specie, dai toni del grigio, marrone, fino al nero. Le foche si nutrono principalmente di pesci, scorupiachi e calamari, cacciando sia vicino alla superficie che in profondità. Sono predatori abili, in grado di inseguire le prede agilmente sotto l'acqua grazie al loro corpo affusolato e alle pinne. Tuttavia, le foche sono anche predate da una varietà di carnivori più grandi, inclusi orsi polari, squali e occasionalmente orche, a seconda della loro posizione geografica. Le foche si trovano prevalentemente negli oceani e lungo le coste di tutto il mondo, con una forte presenza nei climi più freddi vicino ai ghiacciai e nelle regioni polari. Tuttavia, alcune specie sono adattate a vivere in ambienti meno estremi e possono essere trovate in acque più temperate. Sono creature sociali che spesso si radunano in grandi gruppi sulle spiagge o sui ghiacci per riposarsi, prendere il sole e dare alla luce i loro piccoli. e anche se si tratta di un'acqua grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.